Ben trovati, continuiamo il lavoro con il Joe e sempre un lavoro che vedrà un cambio di guardia. Aggiungiamo un pizzico di difficoltà in più ma serve appunto a lavorare sul cambio di guardia e sulla modalità di maneggio del Joe basandoci sul lavoro dei Subuki. Quindi avremo Suki, piede destro vicino al piede sinistro, usciro Suki. In questo caso manteniamo guardia destra. Cambio guardia, ritorno in guardia Suki. E lì. E lì. Ech. Ech. Ni. Ni. San. San. She. Si, si, go, go, ro, ro, si, si, hachi, hachi, q, q, giu, giu, itch, itch, knee, knee, sun, sun, si, si, go, go, movimento di passaggio che possiamo fare sempre più stretto, ro, ro, shi, shi, hachi, hachi, q, q, giu, 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 aggiungiamo un altro lavoro, echi, 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 facciamolo di continuo, ok? Echi, 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 mi, mi, san, san, si, si, go, go, ro, ro, shi, shi, hachi, hachi, q, q, giu, 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 bene, video breve ma credo abbastanza impegnativo quindi non aggiungo ulteriori esercizi, vi invito a lavorare su questo, prima in maniera lenta, echi, immaginando sempre il esercizio che passa davanti alla nostra fascia addominale, qui, echi, 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 ni, ni, san, usate l'avambraccio del braccio avanti come guida, di qui uno, ehi, 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 uno, bene il lavoro del piede che comanda il lavoro dell'anca all'inizio e poi sarà invece l'anca che comanda il lavoro del piede nel fare la rotazione arriveremo direttamente a qui, ehi, 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 questo lavoro vi auguro buona pratica, vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio per l'attenzione grazie 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 grazie